E' un progetto nuovo, bisogna lavorare attentamente, tutti mi chiedono come mai la cultura, come mai la cultura? Beh perché avevo chiesto di tornare in un settore che non avevo mai sperimentato, credo che con la dottoressa Calandrelli si possa fare un bel lavoro, non è una sorpresa, qualcuno dice approfondimento, faremo le inchieste anche con gli approfondimenti, però oggi è una cosa che è un mondo diverso per me e per chi lo vede.